L'intera classe dirigente rischia di essere screditata agli occhi dell'opinione pubblica se non sarà capace di realizzare le riforme. Ne è convinto il ministro per le riforme Gaetano Quagliarello, ascoltato dalle commissioni riunite e affari costituzionali di Camera e Senato. Bisogna garantire un assetto istituzionale più efficiente, moderno e democratico, ha firmato il ministro. I problemi di metodo vanno discussi tutti insieme e in particolare è il Parlamento che deve discutere, trovare il metodo per rendere più fluido il percorso delle riforme ma salvaguardando il fatto che le riforme si fanno in Parlamento. Il governo al massimo può aiutare ma la prerogativa è una prerogativa parlamentare. La riforma elettorale deve essere conseguente alle riforme costituzionali, ha aggiunto il ministro, ma questo non esclude la possibilità di interventi immediati e mirati sulla legge elettorale vigente. Poiché le riforme appartengono a tutti, su questo non esiste una regola di maggioranza. È giusto che tutti partano su un piano di assoluta parità. Due gli interventi ritenuti centrali, la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo perfetto. Come sempre in una relazione, spazi aperti al dibattito ma a principi molto chiari. Anche l'intervento dei colleghi di Camera e Senato è stato civile, garbato, attento, esattamente come io mi aspetto che debba essere la discussione sulle riforme costituzionali. Tutti insieme appassionatamente nella certezza che si debba fare e raggiungere un risultato utile per le istituzioni. Io farei intervenire il primo.